segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te mente o no a me sembra che in questo momento si stia facendo di tutto per allungare la guerra non sta scritto più da nessuna parte che elevare il livello degli armamenti costringe le parti a sedersi al tavolo del negoziato non si ferma la guerra con altra guerra si ferma la guerra se si investe sulla diplomazia e si riapre un ragionamento di merito su quali sono gli obiettivi veri attenzione di questo non si discute mai c'è il piano cinese lo leggeremo giustamente in cima a tutto c'è il tema dell'integrità territoriale l'ucraina bisogna capire quali sono i sottotitoli la dico così l'integrità territoriale l'ucraina giustamente deve essere quella pre invasione russa di un anno fa magari con dentro la riapertura dei negoziati di misc che prevedevano una larga autonomia per le regioni e il donbass ma se l'integrità di queste la russia le aggiannesse se l'integrità territoriale e pre 2014 cioè include la crimea come allude zeleschi significa che noi ci troviamo di fronte al fatto che non c'è un accordo di pace se se nel piano di pace o nel negoziato c'è chi mette il conto la disgregazione della federazione russa nelle opinioni pubbliche soprattutto ai paesi est della nato questo tema c'è che di che cosa stiamo parlando voglio dire noi diamo le armi ma per quali obiettivi secondo e ciudo non giriamoci attorno i jet significano guerra offensiva significa che nei fatti partecipi a uno scontro diretto mi rendo conto che dentro il centro sinistra non tutti la pensano così anzi mi sembra di avere una posizione abbastanza minoritaria da questo punto di vista però sono convinto sono convinto che ora sia arrivato il momento di dirlo e di dire in maniera chiara che occorre una svolta e tenere in piedi l'ucraina significa tenere in piedi oggi innanzitutto un messaggio di pace se invece si arriva a un'ulteriore crescita dello scontro i rischi sono enormi perché la deflagrazione atomica non è più un tabù nel linguaggio di putin e nel linguaggio pubblico e senta